Sono definite serie le condizioni di saluto del sindaco di Locri Giovanni Calabrese dopo che ieri nella tarda serata si è reso necessario il suo ricovero nell'ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Il primo cittadino di Locri da qualche settimana ha risultato positivo al covid al pari di quasi tutto il suo nucleo familiare ed era in quarantena domiciliare per seguire il normale iter per la cura dell'infezione. Ieri pomeriggio purtroppo le condizioni si sono aggravate e dopo un attacco gli è stata riscontrata una polmonite bilaterale cosa che ha costretto i sanitari a ricovero nel nostro comio del capoluogo di provincia con un'autoambulanza. Le condizioni di Calabrese sono state definite serie da parte dei medici regini che lo hanno in cura presso il reparto infettivi. Il covid sta tanagliando la cittadina ionica nella quale sono state registrate nelle ultime ore decine e decine di contagi e solo negli ultimi tre giorni se ne sono aggiunti altri 34. Anche il numero delle vittime preoccupanti al momento si registrano 5 decessi mentre sono ancora in tanti in attesa di conoscere l'esito del tampone molecolare. La giunta regionale a breve si riunirà sotto la presidenza del vice sindaco Giuseppe Fontana che tra le altre iniziative da prendere per arginare la pandemia sicuramente farà slittare a data da destinarsi la riapertura degli istituti di scuola media superiore.